Ma parola raga, benvenuti e bentro in questo nuovo video, io sono Erbacce e da dove iniziare quest'oggi? Beh, io direi dalla prima cosa che quasi sicuramente avrete notato. Ebbene sì, finalmente sono dalla nuova postazione. Raga, da oggi tutti i video che andrete a vedere saranno registrati qua. Quindi fatemi assolutamente sapere che cosa ne pensate nei commenti. Magari a fine video che vi siete fatti anche un'idea più concreta, ditemi che cosa ve ne pare. Ma, attenzione, c'è un'altra super novità. Ci sarà anche un upgrade nella qualità del gameplay. E forse questa era la cosa più attesa di tutte. E a proposito di ciò, volevo cogliere l'occasione per ringraziare tutti coloro che non hanno mai smesso di supportare il canale, supportare i video durante questi anni, oramai possiamo dire, anche se non sono mai riuscito a trovare la giusta costanza su YouTube. E appunto per questo, nonostante i vari intoppi che ci sono stati, ragazzi ho sempre notato il vostro calore, quindi grazie. Ma oggi diamo il via ad una nuova era. Nuova postazione, gameplay in 1080, direi niente male come inizio. Ora però arriviamo al video di quest'oggi, perché devo assolutamente mostrarvi che cosa è successo ieri. Lo avrete già letto dal titolo, ma adesso arriva il bello. Io per questo video vi avrei chiesto 1080 like, per rimanere in tema, no? Con l'aumento. Però visto anche il contenuto che andrete a vedere, io direi di rattoppiare e andare sui 2160, eh? Che ne dite? Oh, poi se arriviamo a 2170 non m'ho fetto, eh? Tranquilli. Ma adesso, bando alle ciance, andiamo in game. Eccoci qua ragazzi. Siamo in game e adesso vi vado a mostrare la ragione per cui oggi sono qua. Sono nel registro attività, come potete vedere. Scorro un po' le partite e arrivo a questo match. Erbacce contro Mohamed Light. E voi magari potrete pensare, ah beh, Mohamed Light, giustamente essendo il player più forte al mondo, ormai senza alcun dubbio, ci saranno anche due suoi fan, che magari mettono il suo nome. Sì, sicuramente ci sono. Ma non è questo il caso. Visualizziamo il profilo. Mohamed Light. Top 1 Torno Globale. Top 1 Ladder. Creatore di contenuti con il badge direttamente in gioco. Attualmente decimo al mondo su questo account. Andiamo a vedere Legacy Best della scorsa appunto Ladder. Top 1, 8946 coppe. Picco di coppe più alto che abbiano mai raggiunto. Infatti il record è proprio il suo. Ultima stagione, terzo al mondo. Best season, primo al mondo. Credo che lui abbia anche il record di medaglie proprio su questo account. Record di medaglie attuale 3956. Non sono mai arrivati a 4.000. Chissà se ci arriveranno a questa stagione. Potrebbero, visto che sono già quasi a 3.400. a, come vediamo qua, 9 giorni da fine season. E ragazzi, sì, è successo. È successo. Vi do anche un attimo un po' di contesto. L'ho beccato in un torneo di qualificazione ad una competizione che poi si svolgerà a Valencia per i player che riusciranno ad arrivare alla fase finale. E vi dico, lui si è qualificato, io no. Però l'ho battuto. E quindi oggi sono qua per mostrarvi questa partita. Come vedete, il mio deck è molto particolare, molto curioso. È uscito proprio questa stagione, eh. È uscito questa stagione con il buff della capanna goblin. In realtà era già stata baffata un mese prima, ma c'era la maga draft e quindi non avevo ancora realizzato quanto potesse effettivamente essere meta. E ragazzi, lo è. Lo è in questo deck e lo è in un deck con cimitero che molto probabilmente avrete visto. E adesso andiamo a vedere questo replay contro il giocatore più forte del mondo. Vi dico, se volete un video con questo deck, con questo spam bait, arriviamo, come ho detto anche all'inizio video, a 2000 like. Superiamo i 2000 like. Adesso però entriamo nella partita. Raga contro Mohamed Light! Ok, io appena l'ho becca. Guardate, perché quando l'ho becca, io avevo capito fosse lui. Perché vedi Mage? Io avevo capito fosse lui. Perché vedi Mage, ragazzi? Io mi sono cagato in mano, figa. Poi era appena iniziato il torneo, inizio game, beccare... Inizio il torneo, beccare Mohamed Light. Allora, io gli scamo e buona fortuna. Lui mi dice good luck a sua volta e non è una cosa a sto valutare. Secondo me dimostra umiltà a un player che ti ricambia good luck. Specialmente un player come... Come lui, no? Allora, io praticamente inizio con dei lanceri per ciclare una capanna e vado subito con Lorda Disgherry sul Rescheletro, anche per capire un attimo che cosa avesse. Avevo già capito il mazzo, ragazzi. Perché questo mazzo di Gigante Royale forse è il più meta del momento in questa stagione. Quindi vi consiglio anche di provarlo. E sì, poi Mohamed lo stava usando anche il ladder, quindi... Ho ben capito il deck. Vi dico, io questo matchup l'avevo già vinto contro altri player. Però, ragazzi, in questo caso ero letteralmente contro il player più forte del mondo. Qui metto dei lanceri per baitare. Ragazzi, questo è un deck bait. E questa ovviamente è la sua potenza di questo mazzo. Rescheletro sulla sinistra e invece lui ha Rescheletro sulla destra. Quindi qua faccio un miner per distrarre il suo Rescheletro. Lui attiva e questa abilità, ragazzi, è stata pessima. Lui, vi dico, che ha perso la partita facendo questa abilità. Quindi ha fatto un errore. Il giocatore più forte del mondo qua ha fatto un grosso errore. Come vedete è in netta difficoltà. Lo sapevo, io continuo lo spam. Vado anche con dei lanceri al ponte e poi però mi fermo qua. Vedendo avrei potuto anche fare una gang subito dopo. Ma va bene così. In realtà l'ho gestita molto, molto, molto bene. Io questa è la prima volta che vedo replay, eh. Perché non ci credevo, raga. Cioè, comunque battere... Giocare più forte del mondo. Puoi avere matchup. Puoi utilizzare un Decnoskill ma batti il più forte del mondo. E infatti vi anticipo anche una domanda che molti di voi probabilmente si faranno. Poi magari nei commenti. Ragazzi, sì. Se giochi un Decnoskill, ok. Hai più probabilità. Specialmente se hai il matchup. Ma non... Ragazzi, non è che un player qualsiasi possa battere Momet Light. No, fidatevi. Fidatevi che non è così. Qua ho l'orda di Sgherri per baitare la Fireball. Perché ho un'altra orda di Sgherri. E qua vedete che è proprio questa la potenza di sto mazzo. Penso che qua vado anche con il Decnoskill davanti. Speravo di riuscire a ciclare il Miner. Infatti farò di tutto per ciclare il Miner. Andrò anche con... I lanceri appunto per poi fare il Miner. In realtà qua forse... Non è stata la miglior giocata. L'orda di Sgherri specchiata era ottima. Però poi avrei dovuto lasciare in quel modo, ok? Poi non avrei dovuto far nient'altro. Infatti qua... Avevo molta paura della sua ripartenza. Ma cosa vado a fare? Vado a togliere la strega madre. Che è la carta che chiaramente mi dava più fastidio in questa partita. La tolgo facendo frecce più frecce specchiate. Qua prova un predict sull'orda di Sgherri. Che non c'è. Manda il good game. Perché dopo questo predict felato. Chiaramente sapeva di aver perso la partita. Ragazzi come vedete il titolo non era affatto più di QB. Ho vinto Go. Facilità contro Mohamed Light. Qua ragazzi nei tornei sono importanti. Fare più corone possibili. Lui non mi lascia due corone. Ci sta, lo posso capire. Alla fine stavo utilizzando un deck veramente infame. E ci sta che non mi abbia voluto lasciare due corone. Ragazzi però... Questa è stata la mia partita contro Mohamed Light di ieri. Mamma mia raga. Mamma mia. L'avete visto? Ho vinto con facilità. Ho vinto con un deck bait. E sono riuscito perfettamente a sfruttare la potenza di questo deck. Però ragazzi ho battuto Mohamed Light. E quindi non potevo non farci un video. In realtà molto breve eh. Perché il replay è questo raga. Il replay è questo. Cioè non è che c'era tanto da mostrarvi. Però raga veramente non... Non lo so. Non è una cosa che succede tutti i giorni. Non è una cosa che succede tutti i giorni. Ed è per questo che rinnovo ragazzi di arrivare a 2000 like. Iscrivervi al canale. E non perdere i prossimi video in arrivo. Perché contenuti di questo tipo... Non è detto che riuscirò a caricarvene altri ragazzi. Questo potrebbe essere l'ultimo video che faccio contro Mohamed Light. Perché ci rendiamo conto di chi è Mohamed Light. Tre volte campione mensile nella CRL del 2023. 2023 è appena iniziata la CRL del 2023. Ci sono stati tre mesi e lui li ha vinti tutti e tre. Per adesso ha vinto tutti i mesi che ci sono stati in questa nuova Crash Royale League. È ovviamente già qualificato alle finali mondiali. Ma per farvi capire è arrivato già a 50.000 dollari di earnings di quell'anno in questo nuovo anno. E ragazzi c'è... Mohamed Light signori. Mohamed Light. E quindi ragazzi infine per concludere questo video. Io vi ricordo che se verrà supportato vi caricherò anche un video in ladder di questa stagione. Quindi lo andrò a registrare proprio in questi giorni. Dove scalerò in top 1000 ma magari anche più alto. Per adesso sono in top 1000 ma ho veramente giocato pochissimo. Ho veramente giocato poco in ladder. E comunque siamo in top 1000. Quindi se volete che faccia una scalata con questo deck verso le 3000 medaglie. Raga mi raccomando supportate questo video. Iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Boia regà. Ah ragazzi mi fate sapere per quanto riguarda la scritta erbacce, il led, quale colore preferite. Vi faccio vedere qualche colore. Ad esempio questo è un viola rosso. Questo è un viola un po' più leggero. Che forse è quello che si addice di più al canale, al logo, a tutto. Però ditemi la vostra. Non voglio condizionare il vostro cedizio. Poi abbiamo il blu. Poi abbiamo anche un verde acqua. Un verde più verde. Anche un giallino. Insomma ci sono di colori. Addirittura un arancione. E un arancione non l'ho visto neanche io prima d'ora. E niente ragazzi. Fatemi sapere. Ok? Grazie a tutti. Ciao.